Incredibile ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio Mike Senza Nome qua in console pronto per iniziare ad ammazzare nazisti Buongiorno ragazzi, sono Mike Senza Nome e questo oggi vi presento Sniper Elite 4 Benvenuti a questa nuova rubrica in Mike prova cose nuove Ebbene oggi vediamo Sniper Elite 4 Vi dico già fin da subito che mi piacerebbe portarci una serie su questo gioco Perché ci sono le missioni, non dovrebbero essere troppe puntate Quindi bene o male in un modo o nell'altro dovrei riuscire a fare la campagna in maniera abbastanza decente E quindi non tirarla troppo per le lunghe, magari facendovi vedere appunto di cosa si tratta È un titolo AAA dalla Rebellion, uscito il 14 di febbraio di quest'anno E devo dire che è veramente bello, veramente bello, veramente ben fatto, molto ben realizzato Se non fosse che la terza volta che provo a registrare questo episodio per episodi di crash Sì perché senza alcuna ragione si chiude il gioco così improvvisamente Nonostante non ci siano cali di frame e sia tutto molto ben ottimizzato Succede questa cosa senza alcuna apparente ragione Sinceramente non so perché Senza star lì a blatterare più di tanto possiamo vedere che abbiamo modalità cooperazione Dove magari vi farò vedere qualche cooperativa nei prossimi giorni Abbiamo campagna, piuttosto che sopravvivenza, piuttosto che osservazione Dove sono missioni asimmetriche con cecchino e osservatore Uno fa l'osservatore e l'altro fa il cecchino La missione campagna completa le missioni storia con un compagno online Questa è molto interessante Magari ve la porterò Non lo so, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa mia proposta Poi abbiamo il multigiocatore con delle modalità molto interessanti Con un dev match a squadre, dev match semplice Piuttosto che il re della distanza a squadre Dove uccidi i nemici da più lontano possibile Vince la squadra che totalizza la maggior distanza di uccisione Se fai 40 km contro l'altra squadra che ne fa 20 perché ammazza tutti da vicino Hai vinto, non è molto difficile da capire ma io ve lo spiego lo stesso E poi abbiamo il giocatore singolo dove abbiamo la campagna E abbiamo varie missioni Ma io per questa prova che ho intenzione di portarvi Ho intenzione di portarvi una missione in particolare Che è il DLC ed è l'obiettivo Führer Insomma capirete già fin da subito di cosa si tratta Scelgo la difficoltà che sarà normale Scelgo il mio omuncolo che posso comprarmi Vedete ci sono delle armi che sono quelle del DLC che sono bloccate Poi abbiamo le varie armi che sono gli Enfield inglese Quando sblocco la maestria perché per ogni arma poi ci sono i potenziamenti Potenziamenti come ad esempio la skin maestria La sblocco quando faccio 20 colpe al cuore con quest'arma Lo zoom quando faccio 20 uccisioni sopra i 100 metri Il rinculo 50 uccisioni mirando dalla spalla Piuttosto che 30 uccisioni coperte da rumori Tutte cose molto interessanti Io ho guadagnato 2 dollaronzi facendo gli obiettivi delle missioni Obiettivi secondari o primari o quello che siano Quindi senza stare lì a parlarci più di tanto Poi ci sono armi primarie che abbiamo il Thompson in questo caso Oppure la pistola Di pistola anche qua ne abbiamo in abbondanza Sinceramente la Wellroad non mi piace per un Katzner Sinceramente Poi la pistola d'ordinanza 38 ha munizioni normali e silenziate Insomma c'è un sacco di dettaglio E un sacco di ricerca dei dettagli Il che è molto bello Scegliamo quindi la marksman normale E facciamo inizio a partita Un nuovo incarico Un nuovo obiettivo Sendari Un'isola a nord di Creta Nient'altro che scoglie i gabbiani O così credevamo I nazisti intendono usare gli U-Bot Per tagliare le nostre rutte di rifornimento nel Mediterraneo Per riuscirci gli serve una base Stando alla nostra spia nella marina tedesca La nuova base sorgerà a Sendari I servizi inglesi vogliono che la neutralizziamo Così dovrò assassinare l'ammiraglio Herman Richter Il comandante della base Qualsiasi altro danno inflitto sarà sicuramente utile Per fortuna La nostra spia mi ha lasciato delle scorte In una delle fortezze marine Ne avrò bisogno Il prossimo evento Potrebbe cambiare il corso della guerra Abbastanza chiaro direi Ed ecco il nostro amico che arriva da una collina Scende giù in strada Non c'è nessuno Ed è pronto per iniziare la missione Incredibile ragazzi Benvenuti a questo nuovo episodio Mike senza nome qua in console Pronto per iniziare a ammazzare nazisti Salve Questa è la zona di ingresso Potete vedere che c'è una piccola freccia Mi dice uccidi l'ammiraglio Richter Subito capo Devo trovare Richter e sistemarlo Va bene Va bene Non ti agitare Troviamo Richter Lo sistemiamo Corso di ginnastica Cinque e mezza Come sempre Mi raccomando ragazzi Puntuali Allora non si può dire Assolutamente nulla Pare che i tedeschi abbiano messo su un'operazione importante Porca vacca Se questa la chiami importante Cioè mi sembra un bunker subatomico Allora non si può dire assolutamente niente Questo gioco veramente è fatto benissimo Grafica stupenda Binoculo fantastico Dettagli Veramente a livelli molto molto elevati Infatti Infatti vi faccio vedere ad esempio Tutti i dettagli sono curati nei minimi particolari in questo titolo Che veramente molto 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 bello Osservatore esperto 500 di esperienza Grazie bello Grazie E Uh attenzione Abbiamo questo signore Che sta Ci sono tre piccioni Piccioni in vista Facciamo Spariamo i piccioni No Ci spostiamo Di cespuglio in cespuglio Come nei migliori giochi Attenzione Un cecchino mi ha osservato Mi ha visto Dovrebbe esserci Eccolo là Allora questo C'è un esplosivo Fatale da vicino Questo signore Eh sì ma se ti metti là dietro Bello mio Come faccio Aspetta Eccolo qua Allora Potete vedere Cecchino Ok L'intelligence alleata Mi ha detto che oggi In turno A 130 metri da me Con il car 98k C'è Eric Frank Che è un cecchino Va bene E lui Fatale da stavo Guardando questa parte Io adesso però Non vorrei sapere Negere di scrivere Voglio vedere Ho delle munizioni silenziate No ovviamente Quindi Meglio non rompere le pali Eric Frank Da questa parte abbiamo Chi è questo signore È uno Jagger Queste sono truppe pesanti Praticamente Un fucile da trincea A me sembra un fucile a pompa Quello sulla schiena Piuttosto che un fucile Da cecchino in mano Infatti ha un car 98 Edward Koch Sembra sempre sul punto Di scoppiare in lacrime Questo lo posso ammazzare Raccontandogli una storia triste È importante Conoscere i propri nemici Piccioni dappertutto Eeeh Andiamo Salta bello L'ammiraglio Richter Qualcuno mi ha risparmiato Qualcuno ci ha risparmiato Perché il Richter È qua Già morto Che bello fare La gente così E decidere Di fare quel cacchio Che ci pare Non ha parlato Con nessuno Dei suoi superiori Ha deciso Di ammazzare Hitler Da solo Uccidi il Führer Ma subito capo Vado Obiettivo vicino A 12 metri Localizza i rifornimenti Subito Guardiamo la mappa Dalla mappa Possiamo vedere Che questi puntini Sono i nostri nemici Vedete c'è uno Jager Jager Fanteria Fanteria Eccetera eccetera Questo È un punto Trova i rifornimenti In quest'area Ci sono dei rifornimenti Fantastico Qui dentro C'è uccide Hitler L'obiettivo Non è più Richter Ho trovato una nota Che dice che Hitler Stesso si trova sull'isola Una grande opportunità Sarei curioso Di come andrebbe la guerra Se io ammazzassi veramente Cioè se qualcuno Avesse ammazzato Sul serio Hitler Ma nessuno ha ammazzato L'Hitler Quindi sappiamo Come è andata la guerra Da schifo Quindi mi posso permettere Di andare di qua Stupido Scendi Giocatore avvistato Cristo C'è un altro là davanti Allora Allora ragazzi In basso a destra Potete vedere la mia salute Ho un medikit E C'è un tizio C'è un tizio Allora io ho un tizio Posso andare qua in alto Passare sul fischio E Vi ricordiamo Di non gettare oggetti Nella latrina Ok C'è un tizio Che si sta avvicinando Il mio livello di copertura È massimo Così E Cazzo Come ha fatto a vedermi Però io Non so prendere Leggio e scrivere Lo raccoglio il corpo Vieni con me Ti porto a spasso Vieni con me Dove lo possiamo mettere In un posto bello e sicuro Qua dietro Nessuno ci vede Ah ho trovato i rifornimenti Che cazzo Dove l'hai lanciato Bello Tranquillo Perquisiamo i cadaveri Perché è fondamentale Perquisire i cadaveri Abbiamo trovato munizioni fucile Piuttosto che Piuttosto niente Armi Armi a go go Mine Granate Tutto quello che vogliamo Bene C'è un altro Ce n'è un altro Qui è nascosto qualcuno E come fa a saperlo Dove stai andando Ritardato Vieni qua Mannaggia Allora Prendiamo questo Prendiamo la pietra La Oh Dove la lancia la pietra Stupido Ok Lancia Un rumore Insomma C'è una Una componente di stealth Molto Accentuata Perché come Ben potete immaginare E se devo fare il cecchino Non vado in prima linea Ebbene In questo gioco C'è anche la componente prima linea Perché nel senso Eccolo là Bello mio Ho intenzione di fare qualcosa Ti muovi Vai da qualche parte Se ne va Se ne va Ok Se ne va Va lì E guarda fuori Dal balcone Attenzione Di nuovo Proviamo di nuovo Prendiamo il fischio Rumore laggiù E continuiamo ad andare avanti Bello No niente Eeeh C'è apertura saltata La porta si chiude Mi sono addosso Tranquillo Tranquillo Vediamo un po' di munizioni Sano che sono qua E' tutto E' tutto C'è quel figlio Di una grande Quel figlio là Guardate Guardate Quello stronzetto Che stava cercando Di ammazzarmi Guarda quello che cazzo Bastardo Aia Oh mio dio Eeeh Adesso Porca tra l'altro C'è qualcun altro Che mi spara Eeeh Benvenuto nel club Ragazzo Ma che cazzo Si è sparato attraverso Ma è possibile È possibile Ma se io sparo Una di quelle cose Cosa succede? Un cazzo Succede che Mi faccio Faccio sapere I miei nemici Dove sono Fantastico Eeeh Oh cazzo E' la fiera del Spara al cecchino qua Oh mio dio Ma è disastroso Ma che cazzo sto facendo E quindi entriamo nella base Entriamo nella ba- Salta giù Ok Ma ti ho detto di saltar giù Bravo Uccide il Führer Adesso mi metto un po' di qua Giriamo un po' per la base Vediamo che la troviamo Attenzione Cerimonia per sta per cominciare Il Führer arriverà tra breve Ok Come va bene Tutto molto silenzioso Aspetta Prendiamo la mappa E dalla mappa Ci impostiamo Il sistema di sicurezza Che è a 35 metri E' lì nella stanza Praticamente Uh Attenzione Cazzo di animazione Era sta roba Cos'è successo Si come dicevo Ci sono alcune cose strane Nel senso si ok Un gioco appena uscito Nuovo Tutto quello che si vuole Però ha delle cose Un po' strane Mi sta puntando Quello stronzeto Mi sta puntando Guarda che roba va Addio Santissime Uuuuh Il cervello Grande tiratore Tiro dalla distanza Grado C Ok C'è qualcun altro Che vuole guardarmi Eh Eh Qui due vanno in coppia Staglio e olio E qua Che cacchio c'è Ah C'è un ufficiale E c'è il Führer Il Führer Il Führer È arrivato il Führer Prendiamo il Führer Fatta la muscialanza Alta giù Non voglio saltare Tutto Pare di sì L'architetto ha pensato Che avrebbe migliorato L'aerazione Il Führer si sta dirigendo Agli attracchi dei sommergibili Ok Dove sono tutti sti qua Cioè io vedo i puntini Sulla mappa E io dico cazzerola Ah qua facevano lezioni Di geografia A scuola Ok Ehi Oh cazzo C'è uno che mi sta guardando Alla dietro Porco Ho distrutto il sistema Di 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 Decilazione E razione Qualcosa Credo Ma che cazzo Bello mio Sì ok Mi sta Tu vai tranquillo Che intanto Ci sta Sparando Con le armi Più pesanti Che si ritrova Oddio Una sala di tortura Interessante Eeeh Fantasma Sì Eravamo faccia a faccia E fantasma Proprio Perchiusiamo il cadavere Vediamo se riusciamo Per caso Dovò trovare Qualche Medicis Bende Eeeh Andiamo di qua Andiamo in su Andiamo in giù Come siamo nascosti Eeeh Ma è Ok Scusi Io vado di qua Bende Andiamoci un po' Con le bende Di qua Si esce Da qualche altra parte Per caso C'è questa cosa Cos'è questa cosa Cambiamo arma Eeeh Quindi Cioè andiamo di qua Ma che Cristo Devo darti Lo spazio Quattro volte Per farti salire Ok Vado via Uuuuh Attenzione Guardate che colpo Mamma mia Aia Uccisione doppia Uccisione fanterie Facciamo di questo Regalino Dai Con un colpo di proiettile Si stacca un perno Intero E Viene giù Tutto il sommergibile Un raggiamento Che non fa una piega Effettivamente Oh Ma questo gioco Ha dei seri problemi Cristo Ma sul serio Ragazzi Ha dei seri problemi Ma non ha ammazzato Nessuno Vabbè Magari non può ammazzare I civili Mettiamola così Ci sono un ufficiale Ok Un ufficiale è andato Perché tutto bianco e nero Adesso Non muore Quindi uno Quindi Ci spaviamo un poco E spariamo un colpo in testa Da lontano C'è un po' di azione Un po' di movimento Un po' di Una mandibola Ai denti Tranquillo Sterminare tutta la base? Stermino tutta la base Non mi faccio più problemi Va bene Vaffangulo Eeeh Cosa ho preso? Fegato? Intestino? Stomaco? Colpo al cuore Ah era un cuore quello Allora prima quello di E poi quello davanti Uuuuh Sempre lì Sempre lo stomaco Mi piace perché ha una Ma che cazzo? Scusione fanteria Scusione fanteria Che cazzo? Basta sparare C'è quel tizzo che mi spara Attraverso le casse Decisione doppia Perché stava trasportando un tizio E io davvero infame Ho deciso di farlo fuori Ma che cazzo stai facendo? Incredibile Ti sembra il momento di stargli a far scavare i muri? Colperemo la destra-sinistra No no E' un altro andato E' un altro andato E' un altro andato E' da ciò con la loro mandibola A quanto pare sparo solo la mandibola Colpo la testa E' un altro scelto E sabotiamo anche il secondo sistema di sicurezza E che significa cosa esattamente? Distruggi la base e fuggi Devo fuggire dall'isola Fuggire Fuggi E poi c'è quest'altro Ma che è questo? Ponzo Mi ha rovinato la copertura Scusi Devo uscire da questa finestra Credo Speriamo che fosse davvero Adol E non uno dei suoi soci Speriamo Speriamo che sia stato lui Dai Cosa vuoi che ti dica? Concludiamo così questo episodio Concludiamo questa Prova di Sniper Elite 4 Final Reckoning Ho sbloccato l'achievement Dopo che il gioco mi è crashato più o meno 5-6 volte Più o meno nelle stesse parti Tra le altre cose Cosa posso dirvi? L'ho completata al 67% dopo 36 minuti Con più o meno 6 crash È un gioco che senz'altro ha del potenziale È un gioco che vi consiglierei tantissimo Se fosse scontato Così il prezzo pieno Ha tanti momenti di piacere Di goduria Di sbudelamenti da regalare Però non saprei se consigliarvelo così fin da subito Magari aspettate un po' che passi il tempo Aspettate un po' che venga scontato Se non altro Io vi ringrazio per l'attenzione Se vi piacerebbe vedere qualche altro episodio Ma senza ombre di dubbio vi porterò qualche altro episodio in coop Fatemi sapere cosa ne pensate Insomma cosa ne pensate di questo titolo L'avete mai giocato? L'avete mai provato? E se non l'avete mai provato Io ve lo consiglio È veramente interessante Magari non giocato come me Nel senso che andrebbe giocato molto più Tatticamente E con molta più calma Ma fino al prossimo episodio Io direi che concludo qui Ci vediamo Sono Mike Senzanome Passo e chiudo E ci vediamo Il prossimo episodio Ciao Ciao